ormai che sei venuto in questo nuovissimo video oggi siamo qua su nintendo land i compagni ovviamente il mio padre ciao ok dobbiamo apposare il genitalia se non muore di cani perfetto ok vai papino che vuoi facciamo quello proseguiamo il difficilissimo livello quello buoni figli da un po difficile questo è proprio difficile no non è proprio infatti non abbiamo mai vuoto vai vai no allora niente ecco perché l'abbiamo attaccato bene 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 ok abbiamo fatto tutto il momento l'abbiamo fatto adesso metti ok mettiamo controllo perfetto e quindi tu eri con questo io c'è lui la spazio metti bene il guscio ok mi devo ricordare ovviamente il quale vuoi fare quale vuoi fare e dobbiamo proseguire abbiamo fatti tutti difficile è difficile 9 abbiamo avanzato ma che è quel primo qualcosa là perché abbiamo capitato ok no è difficile ma è proprio assalto al casello di canon canon scusca e se lo dico non ti so bellino non lo so alta però se ero piccoli mando carina è più bella ok perchè bene siamo pronti per andare c'è il telecomando però qui davanti che non va bene attenzione se papà non si può giocare Siamo pronti? Assalto al castello di Viano. Questa è un po' difficile attuale. Bene, adesso ti dici attenzione che io non lo vedo. Ti sei sicuro se la vai? Ok, la faccio e la faccio. Ah, tu sei dall'altra parte. Tu sei dall'altra parte. Siamo separati, sì, non ci è mai capitato. Perché io non ho accorto? Non è mai capitata una cosa del genere, guarda, stiamo qui. Ci dobbiamo incontrare praticamente, giusto? Sì, sì. Voglio perdere le lenti. Forse, forse siete contratti adesso. Sì, perché vedo sti vizi che c'è una modalità. Eh, che sto proteggendo apposta. T'ho capito? Sì. Ok. Dove è andato il dare qualcosa? Dove? Eh, ci stavano per i muricidi, però ancora non lo riprendiamo. Oh, quando vanno diventati fanno. Ma questo è un posto. Attenzione a non prendermi a me. No. Ok. Ok. Oddio. Come? Attenzione papà. Tienilo lontano. Ho visto. Ho visto. Per fortuna. Vai, ok. Ok. Ho clicca. Allora, ti vorrà avere un uccello volante. Come? Ok, per fortuna non sono morta. Forse lo posso comunque colpire. Cavolo, cavolo. E devo avere i riflessi. Ok. Tu intanto fai così, poi io con la palla. Io la devo distrarre un po'. Ma non riesco a colpire? Perché non riesco a colpire? Perché si muove. Ok, l'ho colpita con la palla. Chi ha creato lei? Lui, insomma, lo so. Pipistrelli! Sì, aiuto. Sì, con lì. Uuuuh. Sì, fredda. Cavolo. Boom. Boom. Ma sto a colpi pure io, però, eh. Sì, sì. Si riesco. Eccolo. Ok, bene. Col colpo mio con la palla. E col tuo? Ma dove stavo? C'è andato benissimo. Ok. Ah, ok. Per il momento ce la stiamo cavando. Oh, ci abbiamo tutti i cuori, sì. Anche quando l'abbiamo perso fuori, infatti, quindi... Eh, non è, non è facile, non è, mi rasa difficile a me. Eh beh, perché non hai più, insomma... Devi, diciamo, agli altri. Ok. Bene. Un colpo sono andati tutti. Mmh. Oh, ecco, attenzione con i salterini. Oh, che carico, bene. Cavolo! Ma, ma come? Dove stavo? Dove stavo? Ma scusa. Eh, sono andati, abbiamo anche colpito. Eppure non l'ha colpito. Eh, ho forzito, ho forzito. Non lo so perché non l'ha colpito, diciamo. Ma, guarda, colpito all'occhio. Cavolo, non mi spiace perché a me forse un po' è... Eppure mi sembra di avermi colpito, eh. Ma... Oh, io dallo danno tanto tiro, poi. Eh, dà, eh, si è colpito subito a lui. Eh, lo so, ma... Eh, lo so. Ah, ok. Aspettami, eh. Sì, sì. Ok, a parte che io non ci vedo, tipo, da dietro. Allora, vado, eh. Sì, attenzione, attenzione, fermati un attimo. Eh, io sto fermo. Ah, ok, no, no. No, pensavo che comunque se continuavamo, se continuavi c'era... È meglio che vado avanti io, capito? Sì. Attenzione, fermati, fermati! Eh... E di questo... E di questo non potevo farlo. Eh, un uccello sopra, vai, vai, vai. Ho visto, ok, ok. Ok. Aspetta, eh, io mi giro perché... Sì, ho un arciere. Ok. Ok. Ah, già vedo, oh, oh, oh. Due arciere, papà. C'era sto tizio. Io ho cucito questo. Ce lo dispongo. Oh, no, no, grazie. Attenzione, ricordati quei schivari. Ok, vai, vai, colfisci, colfisci. Ok, vai. Anche questo è andato anche abbastanza subito. Non era facile, eh? No. Ok, infatti stavo già girando più avanti. Ci penso io. Ai ai. Ehi. Ma qua, no, no, no. No. Muori, muori, muori. No, ma non va. Non cammina. Sbrigati, cammina brutto. Mamma mia che sto personaggio. Lento. Oh, l'ho schifato, ma... Che strombo. Vai, 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 colfisci. Bene. Bravo. Abbiamo anche raccolto un cuore. Attenzione ci penso io qui. Questo punto. Boom. Ok. Quando posso anche dar un colpo... Ecco qua, ho raccolto il cuore. Dai, ma perché non me lo dà? Ah, perché te lo aspetta, aspetta, aspetta. Tu devi colpire sopra, dobbiamo essere sincronizzati. Va, pronti, partenza. Via. Vai. Ok. È aperto? Sì. Non avevo visto la pallina da sopra. Eh, infatti neanche io. No, un cuore, un cuore, un cuore. Bene. Un cuore. Adesso li abbiamo tutti. No, che cavolo è? Già che c'è uno spazio aperto, non mi piace. Sperta, le faccio esplodere quelle... No, chi è questo? Oh, che ho letti di bruxi. Cosa abbiamo mai fatto, però, eh? No. Io ho paura. Eh, come faccio a difendermi vivo? Oggi ho attenzione, provare i mani là dietro. Ma già, così fuori inutilmente, era meglio di no. Eh, infatti, esatto. Oh. Ahio! Ma che cavolo è? Che cavolo è? Che cavolo è? Che cavolo è? Eh, come si rilisca. Eh, ma dai, ma io stavo vicino a lui! Eh, ma dai! Ma dammi il tempo di riazzarli! Eh, ma scusa. Oh, direi, mi sono girato brutto... Battardo! Ok. Scusate l'espressione... non mi devo muovere perchè non è possibile, devo aspettare che vada lui, che venga lui avanti perchè sennò non ci riesco attenzione dai è quasi morto sei a metà vai e tu continua la colpire merda cavolo che sta? non so se ci riesco eh ma dai ma ho fatto così ma te lo comando di cavolo che non ha mai funzionato e mai funzionerà porca miseria se ti ricordi pure gli altri giochi questo non funziona bene ah eh infatti per cui lo scrive anche Disimpossible noi ce l'abbiamo fatta io direi di provarlo si finch'io non ce la facciamo rimane così eh basta e ora mattinga volare porca miseria che sfiga c'era rimasto pochissimo ma io in realtà non so se l'hai visto io non so se l'hai visto che ho fatto così eh io stavo impegnato qua l'altro schermo non va infatti stava a fare così il personaggio eppure gliela data attiva ma rimarracciamo ma rimarracciamo ma guarda che sfiga oh non vuole ci penso eh ma ma la potremmo fare che il gioco non è della nostra parte mi aiuto per farlo perdere nooo no non cominciamo eh lo so ecco anch'io non l'ho visto capito ma vai dire di ricominciare abbiamo già perso due cuori nooo dai che prendiamo che ci stanno un po' i cuoricini ma dai hai visto che non gira fatto tre quattro volte così eppure niente attenzione ok ok e diamine come sta questo no 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 dai ma sai ok sa le mie bossi che cavolo ma già non muoiono più questi ma dai ma me lo lascia ma anche questa stavo arrabbiando ma con un cuore è impossibile recuperarli adesso ci vogliamo ancora gli strelli dai guarda la mia spada dove va io sto tritta non è possibile da farlo e abbiamo un cuore del sacolo infatti adesso ricominciamo quanti li vediamo se magari adesso è una buona no già arrivo eh si si mi devo colpire no 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 aspetta aspetta si si da ferma no no perché non lo porci lo rimetti a posto come vieni ok pure io perché magari impazzisce eh ma è uguale l'ho rimesso adesso e guarda la spada dov'è eh mamma mia il telecomando brutto aspetta un po' non ho visto il cuore là ok qua c'è un'altra è un'altra o' che gli acceglie eh si si infatti stava giusto per terreno l'ho ucciso l'ho ucciso l'altro l'ho sopra io non ci vedo oh la attenzione attenzione e non mi cammina dai muori oh abbiamo riparato l'uplicino sperduto vai vai uccidilo oggi è quello che hanno quasi morto eh un altro cuore dai disinfonia ci ne stava un altro da dietro dove è andato e ora tu stai fermando un po' eccolo oh sei d'accordo sei d'accordo ma come va a quello aspetta vediamo se esce no devi volare non lo so erano più di sandi manni ma la misera mamma vai pronti? ah ma scusa eh ma aspetta aspetta dimmi tu eh vai 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 ok ancora un bel pulicino eh eh infatti vabbè comunque adesso siamo tornati qua io adesso rimango ferma vai prendi ok ce ne stanno due la poi di cuore vedi da dietro che quando serve poi li prendi quando magari rimaniamo uno eh sì sì farò riporto un po' adesso io rimango così basta ma dai iiii no mi sto con me no c'è sti potenze no capi non mi faccio io quando attenzione eh grandi cuori grandi cuori grandi cuori eh tu stanno oh non lo so papà l'ho preso eh papà però se fossi a pensare è utile che l'hai presi oh cavolo papà non ti viene a te non so perché così te le trasporta no 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 l'ultimo non ci sta niente da fare è difficilissimo questo poi c'avevamo pure pochi cuori non ce la facciamo eh poi proseguiamo la prossima volta si dai poi rifacciamo questo cavolo di 9 livelli anche perché poi sono anche quelli avanzati quindi the 9 level is impossible il 9 no eppure finalmente ce l'ho fatta dici si anche perché siamo partiti già malissimo però siamo già partiti bruttissimamente prima però senza cuori eppure siamo riusciti ad arrivare sempre alla fine prima di finire in ogni puntata c'è non mi chiamano non mi chiamano non mi chiamano ah devi prendere un pochino di di gallini ce la fai a prenderli tutti? no tutti no giusto giusto oh oh e quindi già uno vai ok te lo ce l'ho a te vediamo vediamo un pochino cosa combini questo magari è un po' complicato vediamo ecco le cose fanno ordo dai dai ma ce ne mancano più ok ce ne manca uno vai vai dai che ce la fai dai quella pallina mi spero dai la pallina dai pallina ok quindi abbiamo 22 andiamo un po' a vedere vai ah si vai dai un po' dove li buttano ok uno dietro di noi uno davanti a noi andiamo a vedere intanto quello dietro di noi pof dov'è dov'è vediamo un pochino se lo vedi anche tu eeeh dove sta? boh un pacchettino eccolo là eccolo ah eccolo anche l'altro salute 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 come dobbiamo dire che è arrivato il pacchettino che abbiamo vinto sul canale di rox di rox quindi poi facciamo anche un unboxing vediamo un pochino si facciamo un video o fai un video lo facciamo perchè io partecipo solo alla wii e vediamo un pochino come allora torcia una torcia speciale progettata per combattere i fantasmi le sue piene durano solo un'avanzata dei minuti però ah come mi gioco no? come gioco con loro è un difetto non da poco a dirla tutta quella ancora si rana ah che figata armatura uno spettro ha deciso di stabilirsi dentro questa antia armatura dicono che di notte passeggi tranquillamente per i corridoi non puoi bene ragazzi allora io direi che possiamo fermarciare con questo episodio lasciate un mi piace commentate e sceltovi al canale se ancora non l'avete fatto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti